allora è molto importante che io impari a riscaldarmi per bene cioè dovrei diventare bravo ad essere pronto in dieci minuti per un incontro attenzione che io ho visto tantissime volte anche un paio di volte atleti nazionali avere bisogno di ore di riscaldamento fino a che non sarete a un livello decente ok a un livello professionale o di campionato europeo mondiale non vi sarà possibile avere perfettamente padronanza del tempo che avete a disposizione perché delle volte durante la gara accade che tu credi che manchi mezz'ora perché hai cinque incontri davanti a te ma poi accade che mancheranno due ore perché un atleta si infortuna e l'ambulanza deve andare via a portarlo all'ospedale si sospendono le gare e quindi magari tu eri completamente caldo poi devi cominciare da capo può accadere o può accadere che tu calcoli di avere mezz'ora perché hai tre combattimenti prima di te ma i due incontri prima di te vanno tutte e due k e quindi tu avevi pensato che mancasse magari abbastanza tempo per fare tutte le due cose e invece vieni chiamato subito attenzione quindi io vi dico prendetevi il tempo che volete per riscaldarvi certo ma sappiate che ogni tanto dovete fare dei test e dire poso la mia borsa tra dieci minuti devo essere pronto per fare uno sparring dobbiamo avere quella capacità allora io ho visto sempre come un limite quegli atleti che hanno bisogno di silenzio prima dell'incontro e se non ce l'hai di essere riposati prima dell'incontro e se sei andato col treno a cervignano del friuli quante volte sono andato a bassano del grappa a rimini a milano viaggiando la notte combattendo la mattina se hai bisogno di aver mangiato bene se hai bisogno di aver dormito bene se hai bisogno di tante sicurezze mentali poi non la fai in una carriera lunga perché tutte quelle sicurezze di cui si hanno il bisogno sono tutti modi per dire io non ce la faccio bisogno di un aiuto quando sei su ring e non ti aiuta niente se non la testa e tutto il lavoro che hai fatto dietro ok e in quel lavoro che hai fatto dietro prendersi tanto tempo per riscaldarsi stare lì con le cremine massaggiarsi eccetera che ha bisogno di un tipo di musica particolare state rendendovi più deboli dovete nutrirvi dell'imprevisto la realtà il combattimento ci deve addestrare che i piani cambiano in un secondo è un po come diventare combattenti è un po come quello che abbiamo fatto noi col covid c'è il covid le palestre sono chiuse vabbè sono a casa e mi lamento ma il vero combattente che fa va al parco allenarsi va per strada allenarsi s'allena a casa come tanti s'allenano a casa e s'allenano in palestra come adesso state facendo voi ok questo è essere combattenti in tutto questo c'è anche ok miglioriamo la performance atletica però attenzione che attenzione che sviluppare la dote atletica è più facile che sviluppare quella mentale cioè ci sono più persone forti al mondo che persone intelligenti il combattente deve essere l'uno e l'altra cosa vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà sono danilo capuzzi il presidente della famosa otsuga club ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in italia nel sandà a contatto pieno vuoi sapere come ho fatto unisciti ai miei studenti fai una lezione gratis con me datti questa opportunità clicca il link che trovi in descrizione